Ben trovati dal TG della mobilità, ultimi due giorni di potatura in Viale Liege, oggi fino alle 17, domani dalle 7 alle 17, la strada resta chiusa tra via Bellini a via Salaria, deviate le linee 53, 53 e 360, la linea 3 tram sostituita da bus, la linea 19 sostituita da navette e bus tra porta maggiore a piazza Risorgimento. Settimana di grande calcio allo stadio olimpico, stasera alle 21 Roma Vitesse per la competizione europea Conference League, domenica dalle 18 il derby Roma-Lazio per il campionato di Serie A per entrambi gli eventi sportivi, sono possibili ripercussioni per la viabilità, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso delle due tifoserie. L'area del Foritalico si può raggiungere con il tram 2 e da 14 linee di bus, i dettagli sul sito romamobilità.it